L'Evangelo di Marco L'Evangelo di Marco Capitolo 3 Leggiamo dal verso 31 Alleluia Dio ci benedica Giunsero sua madre e i suoi fratelli E fermatisi fuori Lo mandarono a chiamare Una folla gli stava seduta intorno E gli dissero Ecco tua madre e i tuoi fratelli E le tue sorelle Là fuori che ti cercano E gli rispose loro Chi sono mia madre e i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno Disse ecco mia madre e i miei fratelli Chiunque avrà fatto la volontà di Dio Mie fratello, sorella e madre Signore ti preghiamo con tutto il nostro cuore Desideriamo che la tua parola Possa farci del bene Istruirci per il tuo regno Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore Facci sentire la tua presenza In maniera particolare stamattina Te lo chiediamo nel nome di Gesù Benedetti in eterno Accomodatevi fratelli E questo è un brano che sicuramente conosciamo Lo citiamo tante volte Anche ce lo citiamo anche tra di noi E' un brano che sappiamo Importanza, la portata che ha questo brano Ed è un brano questo qui Che ci vuole insegnare diverse cose E' un brano questo qui che ci vuole dire Delle cose importanti Riguardo alla relazione che noi siamo chiamati ad avere con il Signore Anzi, vi dirò di più Non alla relazione che siamo chiamati Perché non c'è da parte di Dio nessuna coercizione Nessuna costrinzione La relazione che vogliamo avere però Che desideriamo avere con il Signore E' il Signore che ci fa scegliere Come d'altronde ha sempre fatto il Signore Non ha mai costretto nessuno Mai ha costretto nessuno a fare la sua volontà Non ci ha mai preso per i capelli Non ci ha mai strattonato Non ci ha mai costretto O fai la mia volontà O è così O poi ti succede qualcosa O faccio succedere qualcosa Voglio semplicemente spiegarvi qualcosa proprio intorno a questo Questo non significa che se non facciamo la volontà di Dio Vivremo bene La scelta di fare la volontà di Dio è nostra E Dio ci pone davanti alla strada della vita E alla strada della morte Se io e te scegliamo Di stare Di seguire la strada della vita Noi troveremo Su questa strada Tutte le cose che riguardano la vita Se scegliamo La strada della morte Non ci dobbiamo lamentare Né con il Signore Né con gli altri Né con le cose che non vanno bene Perché su quella strada Troveremo tutte le cose Che ci parleranno di morte Che ci parleranno di fine Che ci parleranno di sofferenza Che ci parleranno di violenza E stamattina È importante capire Che la volontà di Dio È una scelta di vita È una scelta Che se facciamo Facciamo del bene innanzitutto A noi Quando ci mettiamo sulla strada della vita Noi non facciamo un favore a Dio Non diciamo Va bene lo faccio Perché il Signore è contento Sei tu per primo a essere contento Sei tu per primo ad essere felice Se tu non scegli la strada della vita Sei tu a essere triste Sei tu a vivere male Sei tu che ti verrai a trovare In situazioni di sofferenza In labirinti di guerra Spirituale Psicologica Forse anche fisica È molto importante Stamattina che io e te Scegliamo O quantomeno cerchiamo di capire Che tipo di relazione Stiamo stabilendo con il Signore Stiamo stabilendo con il Signore Che tipo di relazione Intendiamo avere con il Signore E il passo di stamattina È un passo che Insomma parla chiaro fratello Non c'è Dubbio che possa rimanere Alla lettura di questo passo Anche perché A spiegare La relazione che vogliamo avere con il Signore Come la dobbiamo avere È Gesù stesso Quindi Non c'è qui Non c'è la parola di Pietro Oppure la parola di Paolo Che possiamo eventualmente dire Beh Pietro si è trovato a dire così Paolo si è trovato a dire così Perché si trovava in una determinata situazione Questo che parla Questo che detta le regole Per stare nella volontà di Dio È Dio stesso È Gesù E noi crediamo che Gesù è Dio Davvero? È il figlio di Dio E qui ci vengono dette delle cose Molto belle Molto forti anche Se vogliamo Ma anche delle cose Che sono in grado di farci interrogare Stamattina Gesù si ritrova Con una Delle tante folle A cui sta parlando Con la quale si è Radunata Non sappiamo Se questa folla Del verso 31 Del verso 32 Sia La stessa folla Del verso 20 Non lo sappiamo Perché Nel verso 20 Del capitolo 3 Dice Entrò in una casa E la folla Si radunò Di nuovo Così che Egli e i suoi Non potevano Neppure mangiare E poi dopo Viene fatta una contestazione Dagli iscrivi Sull'operato di Gesù È il momento Dove addirittura Gesù viene scambiato O meglio Viene Volutamente Fatto scambiare Per Belzebù Quindi il principe Dei demoni E ad un certo punto Gesù Con grande Autorevolezza Spiega Che un regno Non può essere diviso In se stesso Lo spiega Ai suoi E quindi parla Ai suoi Togliendo Ogni dubbio Eventualmente Dalla mente Dei discepoli O di quelli Che avevano Udito questa contestazione E poi abbiamo Il verso 32 Che riprende Questa Questa immagine Una folla Gli stava Seduta intorno Quindi Non sappiamo Se è la stessa folla A noi poco cambia Se è la stessa O se è Un'altra folla C'è di fatto Gesù che sta Parlando C'è di fatto Gesù che sta Insegnando C'è di fatto Gesù che sta Predicando E sta dicendo Qualcosa Di Importante A quelli che lo stanno Ascoltando Quando Ad un certo punto Nel bel mezzo Di Questa folla L'Evangelista Marco Proietta Un'immagine Fuori Dalla Comunità Diciamo Fuori dal Gruppo Che sta ascoltando La parola E l'immagine La proietta Sulla Famiglia Di Gesù Sulla Sulla madre Sui suoi fratelli E sulle sue Sorelle I quali sono Preoccupati Per Gesù Pensate un po' Sono preoccupati E' probabile Che C'è stata Una riunione Di famiglia Addirittura Poi dite Dove C'eri anche tu Per dire Questo Il collegamento E' con la folla Del verso 32 Del verso 20 Quel che vi ho detto Perché In questa folla Gesù sta Parlando Con i discepoli E Le cose Si sono Così Protratte E che i discepoli Si stanno Dimenticando Pure che devono Mangiare Che hanno Una vita Che Hanno delle Loro Esigenze No? E' Così Intensa La cosa Che Sembra che Non ci siano Più orari Si salta Non avevano Neppure O meglio I suoi Non potevano Neppure Mangiare Quindi Immaginate Il livello Alto Che si è Creato In questo Momento Sfuggono Le cose Ordinarie Dalle mani Le cose Ordinarie Ma anche Importanti Normali Si viene Dato Precedenza A quello Che sta Facendo Gesù Questo È il momento Perché Dobbiamo Fare così E Mentre Viene Fatto Questo Mentre si Svolge Tutto Questo La telecamera Si sposta Da Gesù E dai suoi Discepoli Che si erano pure Dimenticati Di mangiare Si sposta E riaccende Come si dice Una webcam In casa Di Maria In casa Di Gesù In casa Dei fratelli E delle sorelle Ecco perché Vi dicevo C'è stata Una riunione Di famiglia E il verso 21 Dice I suoi parenti Udito ciò Vennero Per prenderlo Perché dicevano È fuori Di sé Quindi C'è stata Una riunione In casa Dobbiamo Andarla a prendere Perché È andato fuori Non si mangia Si salta E dove Dobbiamo arrivare Maria Avrà riunito I fratelli Le sorelle Ecco perché A un certo punto Si arriva lì È fuori Qualcuno Gliel'avrà detto I parenti Udito ciò C'è sempre La voce Che deve Rapportare Le cose Che gli fa Al comodo E non si capisce Più niente Abbiamo una vita Vedi tuo figlio Cosa sta facendo Voi si è fermato là Non ci sono orari Non si capisce Più niente Sollecitarono L'attenzione Della famiglia La famiglia La famiglia Che stava svolgendo Una vita Tranquillamente Normale Di fatto Non vedevano mai Gesù In casa Si guardarono E alla voce Al rapporto Fatto Si guardarono Fuori di sé Andiamolo a prendere Andiamolo a prendere Ecco perché Vi dicevo Probabilmente La stessa folla Arriviamo Al verso 3 Quindi Mentre Gesù Insomma Sta parlando Sta praticando Sta insegnando Giù Sero Subito Andiamo subito Prima che Continuano a parlare A chiacchierare Andiamolo Perché se non c'è Non c'è più Basta Andiamolo a prendere Pensando Di riuscire A piare Gesù Prena Sarà un po' difficile Che lo fermi E' più facile Che è lui Che ti metti in movimento Che tu fermi lui Corsero Andarono Giunsero Sua madre Sui fratelli E fermatisi Fuori Lo mandarono A chiamare Riaccendiamo La webcam Nella zona Di Gesù E dei suoi Una gran folla Era Seduto Intorno a lui E mentre Gesù Sta parlando Predicando Dando La parola Gli insegnamenti Deve essere qualcosa Di meraviglioso Aver partecipato A queste riunioni Con il Signore E deve essere Stato anche qualcosa Dove Ti aspetti Sempre che Deve succedere qualcosa Queste sono le riunioni Intorno a Gesù Non sono morte Le riunioni Che fa Gesù Le mie e le tue Sono riunioni morte Quelle che fa Gesù Non sono morte Come riunioni Lui è la risurrezione Le riunioni che facciamo io E te Che possono essere le più belle Lavoro Familiari Decidere Adesso siamo a gennaio Decidere dove andare in vacanza Decidere cosa fare Per il mese Queste sono riunioni morte Non hanno Sorgenti Ma quando c'è Gesù In mezzo a noi Le riunioni Sono vive E ti devi sempre aspettare Qualcosa di diverso Da quello che Magari tu pensi Nel bene E anche Qualche Stoccata Da parte del Signore E questa è una riunione Tranquillissima Non so se sono arrivata Alle testimonianze Se qualcuno ha testimoniato Se qualcuno ha pregato Non so neppure Se Gesù ha detto Ad un certo punto Vorrei sentire qualcuno Non testimonia mai Non lo so Può darsi Parla Racconta Il regno di Dio Il regno di Dio è predicato I cuori si stanno allargando Quando ad un certo punto Nella scena Apre la porta Immaginiamolo Va bene Del locale Entra uno Che attira L'attenzione Del gruppo E anche Di Gesù Perché questo Qualcuno che è entrato Non è Entrato perché In ritardo È entrato perché È stato fermato Fuori Da Maria Dalla madre di Gesù Dai fratelli Dalle sorelle L'ha fermato in strada E gli ha detto Senti Ci faresti un favore Ci puoi farle chiedere fuori Gesù Per favore E non so come Gliel'avrà detto Se stiamo al pensiero Di prima E fuori di sé Forse gliel'hanno detto Eppure un po' scocciati Gli ha detto Guarda Diggli Di smettere Di chiudere Perché a mezzogiorno Si va a pranzo La domenica Diggli di chiudere Basta Abbiamo le nostre esigenze E parla 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 Hanno saltato pure il pranzo Ma insomma Vogliamo vedere Quello che dobbiamo fare o no Ce lo chiami per favore Hai pazienza Guarda Non entro Perché se entro Faccio un macerano Non sono entrati Sono rimasti fuori Quindi preferisco Che me lo chiami tu Poi ci pensiamo noi Qui fuori Voi ridete Fratelli Ma chissà quante volte Questi pensieri Ci hanno passato Nella mente Chissà quante volte Sono transitati Nel nostro cuore Nella nostra anima Il bello Di tutto questo È che Gesù È tranquillamente Seduto Quindi Non se ne fa proprio Le nostre preoccupazioni Non potranno mai gestire Le responsabilità che Dio ha Gli oneri divini Perché forse Non abbiamo capito ancora Che questa vita Che questa vita Ha un inizio e una fine E che Gesù è venuto Principalmente Non per darci una vita Così È venuto Per aprirci le porte Dell'eternità E questo è quello che conta Perché voi O non voi Ci vuoi pensare O non ci vuoi pensare Vuoi far finta Di non crederci Tanto ci credi Prima o poi Morirai Arriverà il tuo momento E lo dico Non per spaventarti Perché non posso Spaventarti Su un argomento Che è comune a tutti È comune a tutti Ci abbiamo tutti Una data Che non conosciamo Che prima o poi Sarà messa Sulla tomba Bella predica Molto sì Molto solare Per adesso Conosciamo solo La data di nascita Ma già c'è Quella data I nostri Anni Sono nelle mani Di Dio I nostri giorni Sono stati Già stabiliti Il miglior medico Di questa terra Non potrà allungare Di un secondo La tua vita Di un secondo A me piacciono Alcuni credenti Quando dicono Il Signore Mi ha salvato la vita Ma chi? Chi? Tutto quello che succede Succede Perché è Dio Che lo stabilisce Lui dà E lui toglie E lui che dice Sia la luce La luce Viene È la sua parola Che genera vita È la sua parola Che può mettere Fine Alla nostra Stessa Esistenza Terrena Lo mandavano A chiamare Io sono Non so voi Però io sono propenso A pensare Che la folla È la stessa E L'atteggiamento Della famiglia Di Gesù Ci avete notato È un atteggiamento Infastidito Fermatisi fuori Secondo me Ci deve essere stato Un servizio D'ordine Che hanno detto Entrano Entrano Che il culto È iniziato Vi do l'innario Vi do No Sicuro E loro No 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 Vabbè Sì sì Vabbè Sappiamo le cose Fermatisi fuori Per favore Ce lo chiami È così infastidito Che sono pronta A interrompere Una riunione A porto Il nostro cuore Si rega Pieno di fastidi Che non ci rendiamo conto Interrumpono Le benedizioni O meglio Sono disposte A bloccare Le migliori benedizioni Che Dio Può far scendere Sulla nostra vita Lo mandarono A chiamare Una folla Gli stava seduto intorno E qualcuno Da lontano Immaginate Nel gruppo Quindi entra E dice Ecco tua madre Scusa Posso dire Una parola Gesù Che è sempre Straordinariamente Gentile Avrà detto Beh Se tua madre E i tuoi fratelli E le tue sorelle Sentite questa parola Che Da un punto di vista umano È logica Ma spirituale Mi spaventa Là fuori E tu dove sei Dentro o fuori Quanto ci vuole ancora Per decidere E entrare Veniamo al messaggio Di oggi Vedi Ah mo Dopo tutte Queste parole Dobbiamo ancora Arrivare Sì perché è breve Non ti serve Non ti serve avere un titolo Madre Fratello O sorella Perché oggi In mezzo a noi Fratello e sorella È diventato un bel titolo Troppo svenduto Ha perso il valore Fratello A chiunque Fratello A chiunque Sorella E questa relazione Gesù la vuole recuperare Perché spiegherà Chi sono i fratelli E le sorelle C'è tua madre Ora Dovete immaginare Fratelli La relazione Che ci può essere Tra una madre e un figlio Credo che sia La relazione Più forte Che ci possa essere Madre e figlio È la relazione più forte Anche tra padre e figlio Una madre Che si arrabbia Io ho quattro figli Quindi voi capite No? Sapete che ho quattro figli? Una madre Che Rimprovera il figlio Anche se lo rimprovera Aspramente Nel giro di poco Si ricompone tutto Basta che la mamma Gli fa un sorriso E è finita Tutto Tutto finito Se glielo fa il padre Lo rimprovera Il muso Un giorno Due giorni E chi ci può Per recuperare Gli devi comprare Tutti i giocattoli Della diaspora È così Quindi voglio dire Che c'è nel rapporto Madre e figlio Qualcosa Di straordinario No? È chiaro Di divino La creazione Stesso Si manifesta Nel rapporto Madre e figlio E quindi Questo ci parla Di una Relazione Importante Qualcosa Che Ha partorito È suo Viene Dentro Non basta Quartenere Ad una Istituzione Forse Che c'è anche Pattoriti Forse C'è anche Messi al mondo Così Religiosamente Parlando È un po' La nostra Madre Non basta Perché io E te La volontà Di Dio Non la Esauriamo Nell'apporti Religiosi La volontà Di Dio È un'altra Cosa La volontà Di Dio Non te la Spiega Non te la Dice Il fratello La sorella La volontà Di Dio Per la tua Vida La scopri Tu Non ci può Essere uno Che ti Deve dire Questa è la Volontà Di Dio Nella tua Vida E farei Così 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 Può essere Qualcuno Che parla Da parte Di Dio Ma che Non può Importi La volontà Di Dio La scopri Tu Man mano Che vai avanti Affinché Conosciato E per esperienza Qual è La perfetta E buona Volontà Sono Là fuori Che Ti Cercano Penso che In quella Riunione Alcuni Avranno pensato No Adesso Si alzi e se ne va L'hanno mandato a chiamare No Mentre erano tutti Gli intenti ad ascoltare Avranno sicuramente pensato La mamma Fratelli Che sono venuti A cercarlo Forse qualcun altro Ha detto Ma che reso Sono fatto Che lo stanno Mandando A chiamare Sono lì fuori E Gesù Guarda Questo Messo Gli avrà Sicuramente Sorriso E poi Si è girato Intorno A quelli Che erano Lì Nella sala Della Rione Gli ha detto Mia madre E i miei fratelli Che avranno fatto La volontà Di Dio Questi mi sono Madre Questi mi sono Sorelle Questi mi sono Fratelli Non è un'istituzione Che ci mette Nella volontà Di Dio Ci può indicare La volontà Di Dio Ce la può trasmettere Ma la volontà Di Dio È una relazione Profonda Tra me E te E il Signore Fratelli Sorelle E Dio Fratelli È molto Importante Noi diciamo Spesso Se piace Al Signore No Se piace Al Signore No Io vorrei Se piace Al Signore Che cosa Piace Al Signore Al Signore Piace Che io E te Ci curiamo Di fare La sua Volontà Nella nostra Vita Che non Ci fermiamo A distanza Che non Rimaniamo Fuori È altrettanto Significativo Che fuori Là fuori Cercano Gesù Lo mandarono A chiamare Non chiedere Che Gesù Venga Nella tua Volontà Non chiedere Che Gesù Venga A te Sei tu Che devi andare A Gesù Non pensare Che in tutto Quello Che tu vivi Il Signore Deba essere Partecipe Lontano da Dio Deba essere Partecipe E quindi La sofferenza Signore Guarda come sto soffrendo E dammi questo E dammi quest'altro E non me l'hai dato E io ho pregato Perché fino a che Rimarrai E rimarremo Distanti Come dice Il Vangelo Là fuori Non sto parlando Dei locali di culto Parlo là fuori Dalla volontà di Dio Sarà Sempre difficile Per te Capire Com'è la grazia Di Dio Sarà Incomprensibile Per te Anche realizzare La vera Benedizione Di Dio Quando io E te siamo Nella volontà Di Dio Noi Impariamo Anche a Discernere La Bellezza E la profondità Di alcune Benedizioni Smettiamo Proprio Per 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 esperienza Di andare Alla ricerca Di cose Sì Che saranno Anche importanti Però Sembrano Perdere il senso Quando sei Nella volontà Di Dio Non sto dicendo Che non sono Importanti Ma quando siamo Nella volontà Di Dio Le cose Di cui tu Hai bisogno Ti vengono Date Provedute In maniera Abbondante Senza che tu Te ne rendi Neppure Conto Cercate Cercate Prima Il regno Di Dio E la Sua Giustizia E tutte Le altre cose Vi saranno Date In aggiunta Quando sei Nella volontà Di Dio Tu Impari A conoscere Situazioni Anche persone Che non avresti Mai pensato Di conoscere Il Signore Inizia Non voglio dire Gestire Che magari Qualcuno Può spaventare Ma inizia a muovere La tua vita In maniera tale Che tu stesso Godi i benefici Dello stare Al centro Dei suoi pensieri E della sua volontà E la sua volontà Non diventa Per te Un macigno Da sopportare Ma diventa Un'esperienza Da fare Perché no Da promuovere Anche agli altri Cerca la volontà Di Dio Qual è la volontà Di Dio Cerchiamo La faccia Del Signore Ci sono Delle relazioni Umane Madre Fratelli E sorelle E delle relazioni Spirituali La relazione Indubbiamente Maria farà Anche lei L'esperienza Della salvezza Indubbiamente I fratelli Di Gesù Faranno anche loro L'esperienza Della salvezza Abbiamo Giacomo Fratello Del Signore Che farà L'esperienza Della salvezza E diventerà Anche Una delle colonne Principali Della Chiesa Di Gerusalemme Ma quando Giacomo Scrive la sua epistola Lui si dichiara Non fratello In carne Di Gesù Non Non sta mettendo Il peso Su qualcosa Di umano Quindi Su qualcosa Che lo gratifica Che lo Lora Io sono Il fratello Di Gesù E ho vissuto L'infanzia Con lui Chi lo conosce Meglio Di me No no Lui scrive L'epistola E si dichiara Servo Del Signore E' cambiata La sua relazione Non vive più Una relazione Che muore Con il tempo Quindi umana Ma vive Una relazione Che è legata All'eternità Io e te Dobbiamo Fare un salto Di qualità In questa vita terrena Non possiamo pensare Che la nostra relazione Con il Signore Inizia e finisce Perché andiamo Al culto La domenica Non possiamo pensare Che la mia E la tua relazione Inizia e finisce Perché siamo Evangelici Perché siamo Pentecostali La mia E la tua Relazione Con il Signore Inizia Si perfeziona Si realizza Quando entriamo Nel piano Della sua Volontà E nella sua Volontà Io e te Desideriamo A tutti i costi Rimanerci Costasse Anche Il nostro Tempo Io capisco E so che In mezzo a noi Ce ne sono altri Che capiscono Il senso Di questa frase Non è vero Tempo Per mangiare Come capisco Anche Dall'altra parte Il commento È fuori Di sé Lo capisco Ma Quando Gesù Si ritroverà Con questi Che non Hanno avuto Tempo Di mangiare Sarà Questi Che Gesù La avrete Cento volte Tanto In questa Terra E in quella Futura Sarà Questa Tipologia Di credenti Che il Signore Manifesterà La sua Gloria Saranno Saranno loro Che salgono Sul monte Della trasfigurazione E vedranno Che Gesù È superiore Alla legge E ai profeti Saranno loro Che entreranno Nelle camere Mortuarie Della Palestina E vedranno La risurrezione Della figlia Di Giairo Del figlio Della vedua Di Nain Della risurrezione Di Lazzaro Saranno loro Che avranno Realizzato Una relazione Che va Oltre il tempo Che io e te Viviamo Dobbiamo decidere Fratelli Se essere Madre Fratelli E sorelle Di Gesù Seguendo la linea Istituzionale Di un tempo Come questo O essere Fratelli Sorelle E madre Di Gesù Seguendo Una linea Che non finirà Mai Più Che la parola Di Dio Stamattina Possa scrivere Nel profondo Del nostro cuore Amen Chiediamo a Dio Di benedirci Di visitarci E chiediamo a Dio Di Non permettere Che nessuno Di noi Venga Infastidito E' turbato Dall'opera Sua Che non Confondiamo Sembra strano I scribi Persone Che Conoscevano La legge Conoscevano Benissimo La Bibbia Di allora L'Antico Testamento Che di fronte Le opere Di Gesù Lo scambiano Per il diavolo Stesso Guardate Per quanto Io e voi Ci possiamo Meravigliare Adesso Ma non Ci sono Alcune situazioni Che Riflettono La stessa Identica Cosa La difficoltà A vedere Che è l'opera Di Dio La difficoltà A vedere Che Dio Sta facendo Nella nostra Vita La difficoltà A vedere Che Dio Sta portando Avanti L'opera Sua La difficoltà Anche A rompere Con le nostre Comodità Con la nostra Ordinarietà Per vedere Di più Di più Nella Nostra vita In questi giorni E concludo Ho avuto La possibilità Di incontrarmi Con una Delegazione Finlandese Che riguarda L'opera Missionaria E proprio Ieri sera Concludendo Si diceva Proprio questo Ascolta Molto bene Quello che Sto dicendo Ci sono Opere Che Dio Ha stabilito Ordinarie Per queste Opere Ordinarie Dio chiamerà Uomini e donne Ordinari Ma ci sono Opere Straordinarie Che Dio Chiamerà Uomini e donne Ordinari Ma uomini e donne Straordinarie E il termine Straordinario Mentre se ne parlava Mi ha chiarito Molto L'idea Straordinario Non è Bravo Straordinario E' quasi Legato E' quasi legato Alla pazzia Cioè fuori Dalle cose Normali Fuori Di sé E Dio Non andrà Mai A chiedere A uno Che è Consacrato All'ordinarietà Di fare cose Che non sono Tra virgolette Normali E siccome Dio E' il Signore Del cielo E della terra Il padrone Non si sentirà Mai in obbligo Di chiamare Chi non se la sente Chi non vuole A qualcosa Di forse Altamente Incomprensibile Perché si andrebbe In crisi Tranquillamente Ci si impegnerebbe E ci si verrebbe Meno Magari Impegneresti Tutte le tue forze Tutte le tue risorse Però a un certo punto Croneresti E ci sono delle cose Che Dio Ha preparato Per persone Che Dio stesso Ha preparato Ma questo Dipende Dalla relazione Che io e te Intendiamo Stabilire Col Signore Lui sarà Sempre E concludo Con la frase Di Ieri Sera Parlando di Sera Sarà sempre Un gran galantone Il Signore Sarà sempre Uno che bussa E non che sfonda La porta Se tu apri Lui entrerà E ti farà Cenare con lui Ma non puoi Pretendere Di cenare Senza la sua presenza Non puoi O meglio Chiedere a Dio Di darti Chissà che cosa Sul tuo tavolo Senza Che Che lo sia presente A volte Noi chiediamo Signore Voglio darti La mia vita Voglio prenditi La mia vita Fai tutto Quello che devi fare E non ce ne rendiamo Conto Neppure Di che cosa Stiamo dicendo Girando Non è Né una critica Né una contestazione Ma una constatazione Io ho visto Che noi siamo Proiettatissimi Verso gli appelli Manco inizio A fare l'appello Che ci siamo Tutti davanti E vi assicuro Che da una parte Ti viene la voglia Di piangere Di dire che è bello Dall'altra parte Ma perché sei Quello davanti Non inizi Neppure Se senti Che Apri gli occhi A volte Mi verrebbe La voglia Di cambiare No Se senti Di allontanarti Vieni avanti Non so Perché noi Siamo proiettati Verso le emozioni Le emozioni Ci piacciono Ci piace pure piangere Ci piacciono Le lacrime Che ci bagnano Il volto Ci piace La sorella Che ti porta Il fazzoletto E che tu Ti ha lasciuto Ti fa il sorrisetto Queste cose Ci piacciono La volontà Di Dio E' un'altra cosa Chi sono La madre E i miei fratelli Chi fa la volontà Del padre mio Chiediamo il capo E preghiamo Grazie 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 Grazie